Sindaco, ecco qua. Inaugurata a Matera, l'area camper del parco di sera venerdì con accesso da via dei Normanni. Al taglio del nastro hanno partecipato fra gli altri il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, l'assessore all'agricoltura della regione Basilicata, Luca Braia, l'assessore alle opere pubbliche Antonella Prete e la responsabile della cooperativa Testudo Arianna Di Trani. Il progetto, che ha coinvolto il comune di Matera come capofila, rientra nell'ambito delle attività di Basilicata in camper, finanziate in 28 comuni lucani con fondi PSR 2007-2013. In particolare per l'area camper di sera venerdì sono stati spesi 80.000 euro, mentre altri 20.000 sono serviti per realizzare un infopoint a Policoro con l'obiettivo di promuovere il turismo itinerante. L'area camper di sera venerdì può ospitare 12 camper ed è gestita dalla cooperativa materana Testudo. Era un intervento che era fermo da moltissimi anni e che è stato ripreso utilizzando un canale finanziario regionale al 100% e quindi in tre mesi si è riusciti a rendere fruibile quest'area. La consegna dei lavori l'abbiamo fatta il 10 di luglio, quindi il cantiere si è aperto a ridosso delle ferie e si è completato nell'arco dei due mesi e mezzo successivi. Per cui ci siamo preoccupati di non creare un vuoto sul cantiere dalla consegna del cantiere al comune e dalla consegna del comune alla città. Ci siamo preoccupati questa volta di non creare soluzioni di continuità in modo tale che la città potesse usufruire di questi 12 posti che sono ovviamente insufficienti in questo momento vista la grande capacità attrattiva della città. La cooperativa Testudo gestisce l'area. Siamo ben lieti di partire con questo servizio sia per i camperisti a livello nazionale ma anche a livello cittadino perché la città non era comunque dotata di una postazione per il carico e scarico per tutti i camperisti che abbiamo in città e le associazioni che comunque utilizzeranno questo luogo.